ciao a tutti oggi cucineremo un dolce della tradizione casalinga la torta di mele si tratta di un dolce apprezzato sia dai più piccini che dagli adulti e perfetto per colazione e per merenda volendo si può anche accompagnare con una pallina di gelato o con della crema pasticcera la protagonista di questa torta è la mela in questo caso utilizzeremo le mele di cascina imperolo di giflenga oltre alle mele andremo ad utilizzare le uova lo zucchero la farina un pizzico di sale del lievito del burro e del limoncello uniamo le uova con lo zucchero la farina e il lievito tagliamo le mela pezzettini e le uniamo al burro fuso e al limoncello versiamo nella tortiera inforniamo ecco a voi il risultato finale